Allora Cicciarelle, aprite le orecchie e non voglio sentire rumore. Dovete fare una squadra nazionale di calcio in Italia. Sì, dovete imparare a giocare il calcio e non tirare troppo. Chiavo, scigna, chiavo, bene, allenatevi, forza, ok. Dai, dateci sotto Cicciarelli, forza ragazzi. Goal, ho allenato io questa squadra, abbiamo vinto il campionato, certamente abbiamo vinto tutti. Grazie.